ove si è appena concluso il pregiagene classic physique primo call out urs kadecinski wesley visse ramondino ovviamente bion è lei sono ultra sorpreso di wesley visse mi è piaciuto davvero tanto fosse per me fare vincere a lui ma so che ovviamente non succederà ottimo ramondino ovviamente ottima definizione di urs che è quello meno dotato geneticamente del quartetto ottimo anche bion esli che mi è piaciuto davvero tanto davvero sempiterno credo che abbia più di 40 anni è ancora fantastico da vedere questo fronte al bicep se dovessi scegliere chi farlo vincere fare vincere a wesley visse l'unica pecca sono queste gambe che hanno questa stondatura verso l'esterno è molto alto e le gambe cadono molto dalla vita in basso senza uno spanciamento side chest purtroppo non vediamo bene urs che è chi girato verso i giudici però è molto definito gli mancano poi i tricipiti avambracci ottimo il side chest di wesley e anche quello di ramon che qui secondo me guadagna punti perché ha delle braccia superiori soprattutto a livello di avambracci anche un po più di femorale però mi piace vero tanto wesley secondo me è anche più definito di di ramon almeno in queste pose frontali e in quelle laterali ottimo anche brion anche lui manca siccome un po di avambracci manca un po di carne in quella zona però si è comportato bene qui inizioni i punti dolenti per wesley secondo me i glutei soprattutto sono piccoli rispetto alla struttura del suo corpo vedete come le gambe soprattutto a sinistra non abbiano quello spanciamento però la schiena in sé mi piace più quella di wesley rispetto a quella di ramon a cui manca la parte bassa dei dorsali molto trapezio e sotto meno carne guardate il confronto con wesley che ha quella carne in più sotto il trapezio la schiena di brion secondo me è la migliore di tutti la pose in sé è la migliore di tutti questo back table bicep buono anche quello di urs soprattutto per definizione dei glutei dettagli nei femorali però secondo me la posa migliore è il back table bicep di brion davvero a mani basse uno dei migliori back table bicep non solo nel classic ma anche nella open nel bodybuilding in generale absente eyes non so quanto conti questa posa in generale i due al centro fanno un vacuum mi piace di più wesley è anche più definito nei quadricipiti a più tagli quello di ramon comunque è molto buono come absente eyes e anche quello di brion che mette in mostra l'addome diciamo che urs è quello meno dotato geneticamente cerca di rifarsi un po con la definizione secondo me in generale una definizione superiore rispetto agli altri soprattutto come abbiamo visto i glutei e poi fanno chiaramente la posa classica con molta poca fantasia da parte di quelli sulla sinistra e brion fa questa specie di non dico che sia una crucifix perché una specie di ibrido tra un front ball bicep e una crucifix pose diciamo che secondo me si potrebbe scegliere qualche posa classica migliore di queste che non credo sia molto classiche cioè non ci vedo assolutamente niente di classico se non sbaglio anche il buon si bam chris bam said sceglie questa come la sua posa classica preferita poi hanno fatto ripetere tutte le pose a tutti i bodybuilder quindi non mi metterò a fermare di nuovo le immagini però dirò in generale come avrete capito io farei vincere wesley secondo me incarna più degli altri il classic physique perché è un fisico classico alcuni difetti gambe che non spanciano verso l'esterno glutei non molto definiti un po piccoli ramon credo che vincerà perché è ramon però io parlo per i miei gusti personali è sempre ottimo a livello definizione ottime pose però a me personalmente non fa impazzire penso che gli manchi un po di carne nei dorsali quando fa il back to the bicep sotto il trapezio manca con la densità che invece ha il trapezio però pose solide ottima definizione diciamo che non gli manca quasi niente brion hensley mi è piaciuto molto davvero un bodybuilder che ha più di 40 anni sembra che ne abbia una ventina davvero fantastico spero per lui che arrivi almeno terzo perché se lo merita e credo che stia battendo urs in sbagate pose anche urs mi piace in generale però ammetto che sia meno dotato geneticamente degli altri però ha portato la definizione quindi vedremo domani come si piazzeranno secondo con l'auto e manuele enricotti che è stato messo al centro almeno nel primo round con alla sua sinistra che si chiama michael da bull io non conosco i bodybuilder del classic quindi perdonatemi gli altri non so chi siano quello tutto sulla sinistra credo che prima dalla sinistra intendo credo che arriverà ultimo perché mi sembra il meno nobile però un buon posizionamento al centro per l'era enricotti che secondo me può anche ambire un sesto posto a sto punto credo che l'abbiano messo lì per la definizione soprattutto perché a livello di massa non è di sicuro tra i più grossi probabilmente michael da bull lo metteranno prima di lui perché mi sembra più più grosso anche se non è proprio un bodybuilder particolarmente classico comunque questa è la mia opinione a caldo anzi a caldissimo perché appena hanno finito ho iniziato a fare il video quindi credo di essere stato abbastanza esaustivo scrivete nei commenti cosa ne pensate ripeto che penso che vincerà ramon però wesley visser mi è piaciuto davvero tanto e se fosse per me perché il bodybuilding come dico sempre è tanto oggettivo quanto soggettivo farei vincere lui buona grazie a tutti grazie a tutti